Sono 180 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che stanno eseguendo tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica Partenopea nei confronti di sei soggetti, tutti agli arresti domiciliari gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il danno provocato all'erario ammonta oltre 27 milioni di euro. Molto efficace la sinergia con l'Agenzia delle Entrate di Napoli, dalla cui segnalazione erano emersi indizi riconducibili ad un complesso meccanismo di frode fiscale. I successivi provvedimenti, delegati dalla sezione criminalità economica della Procura di Napoli e agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, hanno condotto alla ricostruzione di un sodalizio criminale composto da professionisti, affaristi, mediatori e prestanome, artefici del sofisticato sistema fraudolento di indelebile compensazione. La compensazione tributaria consiste nella possibilità riconosciuta al contribuente di utilizzare i propri crediti nei confronti dell'erario per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dello stesso. Proprio sfruttando la possibilità offerta dalle compensazioni, il sodalizio si sarebbe reso protagonista di un ampio fenomeno di evasione che prevedeva in primis la creazione di falsi crediti IVA in campo a società cartiere, amministrate da compiacenti prestanome. Quei crediti venivano riportati nelle dichiarazioni IVA e muniti del visto di conformità da parte di consulenti fiscali compiacenti. In molti casi sono stati anche ceduti per essere utilizzati in compensazione anche da parte di altre società fuori dall'organizzazione. Tale prassi, ora vietata dalla legge, veniva realizzata mediante il ricorso all'istituto dell'accollo tributario della cessazione del credito fiscale da parte di società che esponevano nelle loro dichiarazioni crediti IVA a beneficio di contribuenti terzi che li utilizzavano in compensazione. L'associazione per delinquere era capeggiata da un commercialista e un imprenditore napoletano, entrambi gravati da plurimi precedenti per reati tributari, i più recenti nel settore delle frodi della commercializzazione di prodotti petroliferi, che si avvalevano della determinante collaborazione di quattro fiscalisti, anch'essi colpiti dalla misura degli arresti domiciliari. La vendita dei crediti inesistenti ad altri contribuenti avveniva grazie ad una ramificata rete di affaristi e procacciatori che proponeva l'acquisto degli stessi in compensazione tramite il pagamento di una somma variabile a seconda dell'importo dei crediti fino al 70% del valore nominale. L'ilecito fenomeno avrebbe interessato 27 società cartiere a testanti crediti IVA inesistenti e una fitta rete di affaristi, consulenti fiscali e intermediari riconducibili al sodalizio indagato, che avrebbe avuto l'incarico di procacciare le società ai contribuenti risultati beneficiari delle indebite compensazioni nei periodi di imposta 2016-17-18 per oltre 27 milioni di euro. Nel complesso, l'attività si è conclusa con l'esecuzione di sei misure degli arresti domiciliari, il sequestro preventivo dei beni del valore di 27 milioni di euro a carico di 62 tra società e contribuenti utilizzatori dei crediti IVA inesistenti e la denuncia per il reato di indebite compensazioni di 93 soggetti.